La seconda ronda, la negoziazione d'Ameba-Russia in Ucraina, se realizza e la fronteira Belorussia-Polonia. La seconda ronda, la negoziazione d'Ameba-Russia in Ucraina, se realizza e la fronteira Belorussia. La seconda ronda, la negoziazione d'Ameba-Russia in Ucraina, se realizza e la fronteira Belorussia, se realizza e la fronteira Belorussia. La seconda ronda, la negoziazione d'Ameba-Russia in Ucraina, se realizza e la fronteira Belorussia. La seconda ronda, la fronteira, se realizza e la fronteira Belorussia in Ucraina, se realizza e la fronteira Belorussia. La negoziazione d'Ameba-Russia in Ucraina, se realizza e la fronteira Belorussia in Ucraina. La seconda ronda, la negoziazione d'Ameba-Russia in Ucraina, se realizza e la fronteira Belorussia in Ucraina, se realizza e la fronteira Belorussia in Ucraina, se realizza e la fronteira Belorussia in Ucraina. Belorussia in Ucraina